La dismissione di due gruppi da 160 MW, il calo nella domanda di energia elettrica, il minore impiego delle centrali termiche, questi gli aspetti che fanno pensare ad una drastica riduzione dei posti di lavoro, circa 300, diretti ed indotto, e la scomparsa del comparto industriale. E l'analisi spietata dei sindacati confederali territoriali della categoria a commento dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla centrale Edipower di San Filippo del Mela. I sindacati contestano il silenzio dell'azienda quando, alla vigilia di un calo del 25% della produzione, non è stato ancora comunicato il suo futuro, l'impiego delle maestranze, un piano industriale che in assenza può determinare, hanno scritto i sindacati, senza ricevere contestazioni, la chiusura dell'impianto. Per difendere il lavoro e le prospettive è necessario che l'azienda chiarisca cosa vuole fare, ma devono farlo anche i deputati, senatori, parlamentari regionali e amministratori locali. Sono loro che devono contribuire a far rompere il silenzio, a sostenere un piano e a dare soluzioni per il presente ed il futuro. I lavoratori sono preoccupati del fatto che i due gruppi saranno dismessi e dunque sono entrati in stato di agitazione avviando le cosiddette procedure di raffreddamento. Nella lettera che i sindacati hanno inviato tra gli altri anche al prefetto, chiedono l'istituzione di un tavolo tecnico con tutte le parti in causa per avere chiarezza sul presente e indicare una via produttiva per il futuro. Grazie 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 Grazie